Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Guarda caso, oggi è sabato, sabato, un sabato, 25 settembre 2010. Vedete bene il titolo, vero? Silvio Berlusconi, donne politica. Il fatto è che io ieri sera ho avuto l'avventura di vedere l'ottimo programma di Lidi Gruber intitolato 8 e mezzo, che va appunto dalle ore 8 e 30, cioè dalle 20 e 30 sin verso le 21. E ospite unico di Lidi Gruber era, guarda caso, il giornalista Eugenio Scappari, l'autore di tanti libri pubblicati dalla casa editrice del Premier, perché era mondatore del Premier, tra cui anche il libro intitolato L'uomo che non credeva in Dio, per cui avendo Eugenio Scappari scritto il libro L'uomo che non credeva in Dio, che sarebbe lui che sta per convertirsi, io poi a suo tempo ci feci un mio video intitolato Eugenio Scappari, santo subito. Ovviamente l'argomento di ieri era quello che i giornalisti chiamano trasformismo, cambio di casacca, cambio di casacca, cioè il fatto che i parlamentari li vedi che zompano da uno schieramento all'altro tranquillamente e i cittadini, gli elettori dicono ma com'è possibile che io ho eletto un parlamentare che stava dentro un certo partito politico magari stava dentro, che so, faccio un esempio, dentro il PD esempio, e adesso questo si permette di andare dentro il PDL e com'è sta faccenda qua? Oppure è quello che sta avvenendo io ho dato il mio voto al PDL e dentro il PDL c'era uno che è diventato parlamentare con il programma del PDL e adesso se ne va, esce dal PDL e va da un'altra parte questo si chiama trasformismo il trasformismo, cambio di casacca, dicono i vedi seguito il fatto è che ieri nella bella trasmissione di Didi Gruber dove l'unico ospite era il meraviglioso giornalista Eugenio Scalfari e Eugenio Scalfari osservava che osservava che è consentito ciò ciò è consentito dalle leggi e Eugenio Scalfari osservava che tutto ciò è consentito dalle leggi e diceva perché in Italia ma anche altrove i parlamentari non hanno vincolo di mandato non hanno vincolo di mandato poi ne parliamo a fondo di questa faccenda così come se il fatto che i parlamentari non avessero vincolo di mandato fosse una cosuccia da niente così e non fosse invece una cosa importante che meriterebbe di venire approfondita ma che un grande giornalista come lui nulla da osservare sul fatto che i parlamentari non hanno vincolo di mandato cioè non avere vincolo di mandato vuol dire che un parlamentare può fare quello che vediamo quando si parla oggi di compra e vendita delle vacche è perché i parlamentari non hanno vincolo di mandato cioè se i cittadini hanno dato il voto ad un centro parlamentare che sta in un certo partito politico poi in Parlamento vanno uomini di quel partito politico i quali dovrebbero seguire per tutta la durata della legislatura per cinque anni il programma di quel partito politico beh questi però all'improvviso possono cambiare partito politico restano parlamentari però restano parlamentari con tutti i benefici conseguenti però possono cambiare partito e gli elettori restano come dire come si dice cornuto e felici no cornuto non lo so come si dice insomma è così l'elettore non ha nulla non ha nessun potere nei confronti di questi eventi e Eugenio Scalfari appunto dice eh beh c'hanno il vincolo di mandato ed egli faceva la distinzione però eh tra la libertà che i parlamentari hanno nei confronti del mandato elettorale e lo scambio di voti cioè se un parlamentare passa dal PDL al PD o dal PD al PDL perché ha cambiato idea allora si può fare si può fare è una cosa che si può fare eh sì è previsto è previsto qua c'ho la carta costituzionale c'ho la carta costituzionale pensate l'articolo 69 è l'articolo 69 della carta costituzionale pensate un po' i nostri padri costituenti quanti erano bravi è un articolo che è fatto di una sola frasina e dice o articolo 69 una sola frasina i membri no articolo 67 scusatemi l'articolo 67 pensate che abilità pensate che abilità articolo 67 ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato senza vincolo di mandato cioè ogni parlamentare non è obbligato quando va in Parlamento a rappresentare coloro che lo hanno votato se gli va li rappresenta e se non gli va come si dice cambia casacca articolo 67 ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e il fatto è poi che però Eugenio Scalfari appunto distingueva tra la libertà che hanno i parlamentari evidenziando che i parlamentari non hanno vincolo di mandato ma senza approfondirla questa questione qua ma perché i parlamentari devono essere svincolati dal mandato elettorale perché facci un ragionamento no? se no gli elettori non capiscono gli elettori possono dire ora io posso votare per la destra e la sinistra che pari è tanto la persona che io voto poi a un certo punto può anche cambiare casacca ovviamente però diceva che quando però un parlamentare cambia casacca sulla base di un interesse personale nel senso che è comprato è comprato e che viene comprato sempre che stia avvenendo adesso che il PDL intende acquisire alla propria maggioranza parlamentari di altri schieramenti politici promettendo loro promettendo loro che so un incarico pubblico o qualcosa allora ovviamente diceva Eugenio Scalfari che in questo caso siamo di fronte a un reato sì è vero c'era la corruzione e diceva Eugenio Scalfari che pure è stato un grande giornalista diceva siamo di fronte a un reato penale diceva Eugenio Scalfari siamo di fronte a un reato penale ora che 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 la locuzione reato penale lo dica uno di voi ragazzi che avete 15 20 25 anni è anche comprensibile ma che lo dica un grande giornalista che che è stato sempre ah potete andare a vederla la trasmissione di ieri cari amici è la trasmissione di venerdì 24 settembre 2010 8 e mezzo di venerdì 24 settembre 2010 e vedete pari pari quello che vi sto dicendo io osservava Eugenio Scalfari che che i parlamentari sono liberi di passare di andare dove vogliono di spostarsi dove vogliono però se ciò avviene sulla base di 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 che so di di una corruzione no che ricevono dei benefici questo è non diceva questo è un reato diceva questo è un reato penale un grande giornalista come Eugenio Scalfari e lo sa che non si può dire reato penale non si può dire reato penale perché i comportamenti illeciti cioè non consentiti illeciti illeciti i comportamenti illeciti non consentiti ai cittadini a chiunque sono di due tipi ci sono gli illeciti amministrativi che sono illeciti di poco conto e poi ci sono gli illeciti penali che sono illeciti pesanti l'illecito penale a sua volta si chiama reato non si può dire tu hai compiuto un reato penale si può dire soltanto tu hai compiuto un reato oppure tu hai compiuto un illecito penale capito capito ma che questo grande giornalista grande giornalista che ha fatto uno lo ascolta e dice i reati penali neanche Lidi Gruber però gli ha detto guardi sua maestà sua maestà Eugenio Scalfari non si può dire perché ha fatto brutta figura sia Eugenio Scalfari che Lidi Gruber perché Eugenio Scalfari ha fatto la brutta figura di far capire che non lo sa che non si può dire reato penale è un doppione un doppione e Lidi Gruber accettando subinamente che Eugenio Scalfari parlasse di reati penali ha dimostrato che pure lei non lo sa che non si dice no non si dice reato penale si dice o illecito penale o reato punto è un reato punto e basta è un reato il reato è un illecito penale basta allora nulla chiaro che i giornalisti giornalisti un grande giornalista Eugenio Scalfari alla sua età parla ancora di reato penale e Lidi Gruber che neanche lo corregge potrebbe dire ma sua maestà no non è reato penale è un reato punto e basta e allora questa questione qua del fatto che i parlamentari e i parlamentari italiani anche di tanti altri paesi non hanno vincolo di mandato risale pensate un po' niente di meno che ai tempi della rivoluzione francese ai tempi di Robespierre del terrore perché allora ci fu il famoso abate si è ve si è ye si è ye l'abate si è ye si è ye un grande l'abate anche se era un abate era un grande lo stesso un grande esperto di diritto l'abate si è ye alla fine optò per il fatto che i parlamentari dovevano essere liberi da mandato parlamentare dovevano essere senza vincolo di mandato l'abate si è ye perché erano furbi anche se rivoluzionari erano furbi lo stesso capito? perché non è che diventare rivoluzionario ti trasforma il tuo cuore no 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 assolutamente il cuore il cuore resta sempre quello di prima io sovente dico che tanti hanno come si dice la mente a sinistra ma il portafoglio a destra capito? poi anche l'abate si è ye era un giacobino era un giacobino i dodici i parlamentari i rappresentanti del popolo non devono avere vincolo di mandato non devono essere obbligati a rispettare il mandato loro dato dagli elettori e la questione si è trascinata fino ad oggi infatti l'articolo 67 della nostra carta costituzionale dice appunto ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e quindi quando uno zompa da uno schieramento politico a un altro fa una cosa consentita dal parlamento ma non so se gli elettori siano contenti capito? io non lo so se gli elettori siano contenti che un loro c'è un parlamentare dello schieramento per il quale loro hanno votato quindi ha un certo programma e a un certo punto passi a un altro schieramento che c'è un programma diverso vedete che si dice si dice appunto che i parlamentari le leggi le fanno a uso e consumo anche le leggi relative alla loro retribuzione perché la carta costituzionale per esempio non dice nulla relativamente alla consistenza della retribuzione dei parlamentari non dice nulla non dice nulla e loro si fanno le leggi stabiliscono loro quale deve essere il livello delle leggi quale deve essere il peso delle loro buste paga lo stabiliscono loro non è che ci fanno un referendum popolare in modo che il popolo si esprima su quale debba essere il peso della busta paga dei parlamentari non l'hanno mai fatto un referendum di questo tipo i parlamentari la legge se la soffatta punto e bar e tutti tutti d'accordo sulle retribuzioni parlamentari sono tutti d'accordo dall'estrema all'extra all'extrema sinistra tutti d'accordo quando si tratta di votare o si trattò di votare per il livello delle loro retribuzioni dei loro sterminati privilegi compresi l'autoblu e l'autista di stato tutti d'accordo defezioni non ce ne furono che non hanno mai fatto un referendum popolare di popolo esprimiti tu popolo liberamente sul peso che devono avere le nostre buste paga sul peso dei nostri privilegi popolo esprimiti un bel referendum cosa c'è di male a fare un referendum popolare è il popolo che va a votare si stabiliscono i vari pesi delle varie buste paga i vari privilegi e vediamo il privilegio che ottiene la maggioranza dei voti e passa diventa legge del Parlamento e via di seguito ma che ma che e allora adesso ma che cosa c'entra qua Silvio Berlusconi donne politiche donne politiche perché io tempo fa ho sentito il nostro premier scusatemi cari amici non ve lo posso documentare ma l'ho sentito l'ho sentito ma di certo l'avrete sentito pure voi che al cospetto di belle ragazze belle ragazze al cospetto di belle ragazze avrebbe consigliato loro di trovarsi un marito ricco di trovarsi un marito ricco per risolvere i loro problemi il fatto è che il nostro premier ha detto solo metà di quello che avrebbe dovuto dire e l'altra metà non l'ha detta però l'altra metà era già implicita nell'esperienza stessa matrimoniale del nostro premier sapete il nostro premier no che ha aveva o ha come moglie la bella Veronica Lario Veronica Lario e quindi Veronica Lario a suo tempo era una bella ragazza che aveva sposato un uomo ricco proprio come Silvio Berlusconi ha detto alle ragazze ragazze sposate un uomo ricco così avete risolto i vostri così a suo tempo anche Veronica Lario la signora Veronica Lario era una bella donna che sposò un uomo ricco ma poi che succede che succede dopo succede dopo che la bella donna che ha sposato un uomo ricco per un motivo o per un altro per un motivo o per un altro la bella donna che ha sposato l'uomo ricco e l'uomo ricco lo porta al tribunale esattamente come è venuto con Veronica Lario e in tribunale si fa dare l'appannaggio l'appannaggio abitò quindi può vivere con i soldi i soldi dell'uomo ricco ma senza avere il fastidio di avere accanto l'uomo ricco capito? ecco questo che doveva dire perché il messaggio diventerà ancora più interessante il messaggio di Silvio Berlusconi cioè Silvio Berlusconi doveva dire care sposate un uomo ricco poi dopo un po' di tempo magari avete avuto uno o due figli perché i figli sono gli ostaggi gli ostaggi dopo un po' di tempo per un motivo o per un altro un motivo lo si trova sempre ve lo portate al tribunale i giudici vi danno senz'altro ragione perché siete voi che avete messo al mondo i figli e voi che vi dovete crescere e per cui ricevete un appannaggio se non altro per il mantenimento dei figli l'appannaggio è proporzionato al reddito dell'uomo ricco che avete sposato e voi con l'appannaggio per i figli potete vivere pure voi per tutta la vita senza dover lavorare si è fermato però Silvio Berlusconi a metà non ha osato andare oltre però la sua stessa esperienza ci indica come vanno le cose per una bella ragazza che sposa un uomo ricco una bella ragazza sposa un uomo ricco fa alcuni figli con l'uomo ricco dopo un po' di tempo dopo un po' di tempo ci sono sempre migliaia e migliaia i dimotini per portare l'uomo ricco a un tribunale e ricevere un appannaggio reale con il quale vivere usque ad mortem felicemente ecco ecco capitò ma quello che ha detto Silvio Berlusconi francamente dispiace riconoscerlo ma è la verità è la verità cari amici perché in patriarcato è infinitamente superiore il numero degli uomini ricchi a quello delle donne ricche capitò cioè la società patriarcale è strutturata in maniera tale che è più facile a un uomo diventare ricco che non a una donna statisticamente parlando è così allora una donna in patriarcato per diventare ricca si sposa un uomo ricco e sposando un uomo ricco la donna diventa ricca anch'essa poi quando si stufa se si stufa dell'uomo ricco dopo che gli ha dato uno due o tre figli se si stufa lo porta in tribunale e come mercede del fatto che ha messo al mondo per l'uomo ricco uno due o tre figli come mercede riceve un appannaggio destinato al buon mantenimento dei figli un appannaggio e anche qualcosa di più in modo che lei riferisce con te il patriarcato le cose ha detto la verità Silvio Berlusconi e Silvio Berlusconi è un uomo patriarcale e cosa potete pretendere cari ragazzi che un uomo patriarcale agisca come un uomo matriarcale io so che tanti tanti non vedono l'ora che Silvio Berlusconi muoia oppure che 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 perda le elezioni o che caschi giù adesso che c'è il contrasto con l'amico Gianfranco Fini io ci feci a suo tempo un video intitolato Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini al tempo in cui iniziò il loro litigio non sapete quando Gianfranco Fini si alzò in piedi andò verso Berlusconi col dito così io ci feci subito un video e dissi e dissi in quel video non mi ricordo il titolo preciso però era intitolato ricordo di pare Silvio Berlusconi e Gianfranco io ricordo questo non vanno più d'accordo anche se il governo non casca sarà uno stilicidio quotidiano il governo andrà avanti con uno stilicidio quotidiano perché già si capiva lo ricordate Gianfranco Fini che si alza in piedi in gesto di sfida si avvicina a Berlusconi perché mi vuoi cacciare da quel momento è chiaro che le cose non si potevano più comporre cosa pretendete cari amici da Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi non è cascato mica giù dal cielo sapete l'avete eletto voi e voi vi girate intorno così e mamma mi dice ma non l'ho eletto io non l'ho eletto io e vabbè l'ha eletto il popolo italiano a maggioranza in democrazia le cose vanno così a maggioranza e Silvio Berlusconi è si suol dire in matematica è un campione adeguatamente rappresentativo di tutti coloro che lo hanno votato se i tifosi di Maradona idolatrano Maradona vuol dire che Maradona è lì è un idolo per loro è un idolo per loro è così se Silvio Berlusconi è stato votato dalla maggioranza di coloro che sono andati a votare o ha avuto che so il numero più elevato di preferenze e di chi è la colpa del destino del fatto di chi è la colpa e beh l'avete votato voi io sono arrivato un giorno in un video non molto lontano sono arrivato a dire che per me anche Beppe Grillo e Antonio Di Pietro nel segreto dell'urna e votano per Silvio Berlusconi sono arrivato a dire in un video recente non mi ricordo il quale che per me per me anche Antonio Di Pietro e Beppe Grillo nel segreto dell'urna votano per Silvio Berlusconi perché se non ci fosse Silvio Berlusconi questo uomo patriarcale ma che farebbero politicamente parlando Antonio Di Pietro e Beppe Grillo loro vivono politicamente parlando Beppe Grillo e Antonio Di Pietro perché c'è Silvio Berlusconi perché devono combattere Silvio Berlusconi immaginatevi voi un Antonio Di Pietro in politica senza Silvio Berlusconi ma che fa? con chi se la prende? con chi se la prende Di Pietro? capito? e da questo punto di vista Silvio Berlusconi ma l'ho già evidenziato in tanti video svolge una grande funzione terapeutica nei confronti del popolo italiano cari ma che stai dicendo se la fila è una grande funzione terapeutica ma voi pensate che tutti i giorni in famiglia si spostano i problemi familiari l'odio reciproco l'insopportazione reciproca tra marito e moglie e moglie e marito e anche tutto il rancore dei figli nei confronti dei genitori il rancore dentro l'appartamentino tutta questa aggressività interna all'appartamentino che si taglia col coltello vi viene esportata parlando male di Silvio Berlusconi colazione pranzo e cena che gli venga un cancro a Silvio Berlusconi questa è la funzione terapeutica ma guardate cari amici che la prima medicina dell'umanità la prima medicina il primo farmacos farmacos fu il capo espiatorio il capo espiatorio si eleggevano i re si eleggevano i re per poi giustiziarli 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 i re cioè uccidere i re significava significava è agnello di Dio che toglie i peccati del mondo significava liberare la comunità da tutto il male oppure si individuava un individuo della comunità gli si diceva che lui era la causa di tutti i mali della comunità e lo si sacrificava poi col tempo si è passato passati dai sacrifici umani si è passato dai sacrifici animali si sacrificava anziché sacrificare agli dei un individuo il solito re riconosciuto come capo espiatorio e si gli si sacrificava un animale era l'animale la vittima sacrificale l'animale si è passati dai sacrifici animali umani ai sacrifici animali Silvio Berlusconi prende su di sé tutte le insoddisfazioni dell'animo umano da questo punto di vista è la più formidabile medicina che ci sia in Italia perché consente al popolo italiano di esportare l'infelicità di esportarla e di dirottarla verso Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi è la colpa di tutto cioè non è colpa mia che sono un incapace che non ci vogliono lavorare non è colpa di mia moglie non è colpa no no è colpa di Silvio Berlusconi notavo tempo fa notavo che tutti ce l'hanno con la Maria Stella Cermini e facevo notare la limitatezza del nostro modo di ragionare perché Maria Stella Cermini non è che il ministro della pubblica istruzione che so dal primo gennaio 48 quando è entrata in vigore la carta costituzionale da quando è nata la Repubblica Italiana mi pare che sia nata a seguito del referendum del 2 giugno del 46 come ministro della pubblica istruzione non lo so ne avremmo avuto 40, 50, 60 30, 40 andate a vedere voi quanti sono stati i ministri della pubblica istruzione ma non c'è stato un solo ministro della pubblica istruzione che abbia accontentato il mondo della scuola mai 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 ma pensate che la Maria Stella Cermini è una del PDL di Forza Italia di Berlusconi sono tutti malcontenti di Maria Stella Cermini sindacati universitari ricercatori tutti malcontenti ma voi pensate forse che prima della Maria Stella Cermini quando furono ministri della pubblica istruzione due meravigliosi ministri che venivano dal partito comunista erano ministri comunisti post comunisti meravigliosi ministri Luigi Berlinguer e Giulio De Mauro pensate voi che il mondo della scuola gli abbia fatto gli applausi a questi due ministri che nulla che avevano che spartire con la Maria Stella Cermini ma che ma che Luigi Berlinguer fu fatto zomparre per aria dai sindacati Luigi Berlinguer i sindacati lo fecero zomparre per aria perché Luigi Berlinguer ministro comunista e post comunista voleva introdurre nella scuola un minimo un minimo di meritoprezia a livello dei docenti un minimo niente zompato per aria e Giulio De Mauro fu fatto zompare per aria no fu fatto piangere dopo cazzo il governo ma Giulio De Mauro il ministro della pubblica istruzione allora siamo nel 98-99 mi pare fu fatto e fu fatto piangere a Napoli perché ebbe l'ingenuità Giulio De Mauro Giulio De Mauro ebbe l'ingenuità di andare a incontrare i precari e Maria Stella Cermini mi dispiace dirlo ma questa ingenuità non ce l'ha avuta magari Maria Stella Cermini si è ricordata di quello che gli era capitato al suo predecessore Giulio De Mauro che per voler incontrare i precari poi lo fecero piangere lo fecero piangere a Napoli questa è cronaca politica cari amici allora io paragono la scuola il mondo della scuola che è un mondo fatto di otto scuole università che so dieci milioni di studenti ottocento novecentomila insegnanti 20 milioni di genitori papà e mamma eccetera il mondo della scuola non è mica il ministero della pubblica istruzione concentra su di sé le quotidiane attenzioni di 20-25 milioni di cittadini e tutti i giorni perché tutti i giorni i ragazzi vanno a scuola a scuola materna vanno all'università poi torno a casa che dicono che sono incazzati perché i professori universitari non si comportano bene insomma il mondo della scuola è oggetto di ordinari o quotidiane discussioni in famiglia io lo paragono il mondo della scuola il mondo della scuola io lo paragono a una donna una donna che abbia avuto 40 o 50 uomini ma che non sia mai stata contenta di nessuno di questi 40 o 50 uomini questi 40 o 50 uomini sarebbero i vari ministri della pubblica istruzione loro si avvicendano magari ci sono di destra ministri di sinistra però il mondo della scuola è sempre malcontento si dice è sempre infermento chissà perché è sempre infermento voi credete che cade questo governo e quindi cade Berlusconi cade la Germini e voi che pensate che il prossimo capo del governo magari di centro-sinistra e il proprio ministro il prossimo ministro della pubblica istruzione magari di centro-sinistra possa essere applaudito voi pensate che possa incamerare così tac 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 in 448 200.000 300.000 precari in un mondo scolastico in cui il rapporto docenti-studenti è di 1 a 10 noi abbiamo il rapporto docenti-studenti più favorevole all'interno della comunità europea e da tanti mi dicono eh sì abbiamo poi c'è una classe di 30-35 alunni ma lì c'è la carta geografica e guardate la carta geografica fisica no l'Italia non è mica la pianura francese o la pianura germanica o la pianura russa noi abbiamo il 75% del nostro territorio che è montuoso che facciamo andiamo a radere al suolo tutte le città tutti i paesi che stanno in montagna 75% del nostro territorio è fatto di montagne è chiaro che sapete non la storia delle comunità montane no è chiaro che se c'è se c'è un istituto comprensivo a 800 a 1000 metri di altezza è chiaro che lì c'è una popolazione ridotta è chiaro che le classi sono meno numerose sono meno numerose le classi ma lo Stato provvede ai paesi di montagna come alle metropoli e che deve fare le deve abolire le scuole in montagna il 75% delle scuole italiane stanno in montagna però a livello nazionale il rapporto tra docenti ed alunni in Italia è di rapporto di un docente ogni 10 10 alunni poi dopo per tutte queste questioni che hanno a che fare non solo per il nostro territorio montuoso ma anche per altre questioni amministrative capita che ci sono classi di 30 35 alunni però la media nazionale è quella dalla quale si deve vedere se uno Stato opera favorevolmente o sfavorevolmente nei confronti della scuola la media nazionale italiana batte quella europea perché noi abbiamo un docente ogni 10 studenti cari amici ve l'ho dimostrato in un video qualche tempo fa proprio classifiche alla mano e allora adesso andiamoci mestamente verso la la conclusione del video ieri ho piazzato il video intitolato sesso e rivoluzioni sesso e rivoluzione e in un certo senso qua adesso continuo brevemente il discorso di sesso e rivoluzione facendovi notare che nel passato quelli che facevano la rivoluzione la facevano perché avevano fame e volevano cibo volevano cibo invece oggi in occidente di cibo ce n'è pure troppo e quello che manca invece è la voglia di lavorare e la vera rivoluzione in occidente rivoluzione interiore sarebbe quella di convincere visto che non si può fare più la rivoluzione oggi per il cibo perché ce n'è pure troppo siamo tutti obesi e le malattie dell'occidente sono quasi tutte legate all'obesità diabete e ipertensione ma anche dei ragazzini e tutti ti vieni a mangiare quindi oggi non si fa più la rivoluzione per mangiare ma pure disoccupati mangiano 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 di più un disoccupato di oggi che un lavoratore nelle miniere di 50 anni fa perché 50 anni fa gli italiani andavano a lavorare nelle miniere anche nel Bergio quanti italiani sono andati a lavorare nelle miniere del Bergio e di certo i nostri italiani che lavoravano nelle miniere del Bergio 50 anni fa mangiavano di meno di quanto mangi oggi un disoccupato perché la povertà è sempre una cosa relativa un povero di oggi sta meglio di un benestante di 50 o 60 anni fa perché anche il popolo di oggi state sicuri che c'è il cellulare c'è la televisione magari c'è l'utilitario vabbè vabbè e così la rivoluzione una volta nel passato la rivoluzione la gente la faceva perché aveva pane e voleva il pane oggi di pane ce n'è pure troppo per tutti per non c'è nessuno ma anzi l'Occidente è pure troppo ingrassato l'Occidente è tutto malato di cibo oggi la rivoluzione consiste invece in una trasformazione nel passaggio da dalla non voglia dalla non voler lavorare a voler lavorare questa sì che è una grande rivoluzione non lavorare lavorare dice ma non ci stanno i posti di lavoro vabbè ma in Europa c'erano 50 milioni di lavoratori comunitari extracomunitari cioè di stranieri comunitari 50 milioni ce ne sono in Europa nel glorioso nostro occidente e questi non sono forse venuti non hanno forse trovato il lavoro da noi e se il lavoro da noi l'hanno trovato in occidente compresa l'Italia 50 milioni di nostri fratelli schiavi comunitari di extracomunitari perché non lo dovremmo trovare noi ce l'hanno trovato loro che sono venuti da lontano perché non dovremmo trovare noi che siamo qua vicino non so se avete capito cari amici non so se non avete capito pensate ai vostri nonni che sono andati a lavorare nelle miniere del belgio ma in tutto il mondo in tutto il mondo quanti milioni 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 di italiani sono andati all'estero e facevano all'estero e quello che fanno oggi in occidente i nostri fratelli schiavi comunitari ed extracomunitari ricordatevi cari amici che quando andate al supermercato a comprare le arance le olive l'olio d'oliva i pomodori e voi comprate prodotti che sono stati raccolti con le mani da terra o dagli alberi con le mani dei nostri fratelli schiavi comunitari ed extracomunitari perché se è vero che la schiavitù è stata abolita sul piano formale ma sul piano sostanziale c'è ancora c'è ancora la schiavitù cari amici però lo so che quando voi andate a comprare le arance non ve ne frega niente di sapere da quali mani sono state raccolte quelle arance non vi importa niente di sapere se sono state raccolte da normali operai o da schiavi sono tutti raccolti dai schiavi perché ve ne frega a voi basta soltanto comprare le arance a poco prezzo vabbè comunque chiudiamo questo video se no andiamo troppo lontano ma veramente quello che è avvenuto a Cuba è con Fidel Castro Fidel Castro fa la rivoluzione che adesso in fin di vita fa la contro rivoluzione pensate che ha tolto ai cubani persino il sussidio di disoccupazione permanente e i cubani avranno detto ma allora noi non ti vogliamo più bene Fidel Castro ma com'è noi ti abbiamo sempre voluto bene qua a Cuba noi cubani adesso ci fai ci fai la privatizzazione di Cuba la privatizzi e poi ci togli quella cosa meravigliosa che era segno di disoccupazione permanente ah poveri cubani poveri cubani che sorpresa che hanno avuto da Fidel Castro ecco che amici concludiamo l'operazione Silvio Berlusconi donna in politica osservando che se non ci fosse Silvio Berlusconi noi avremmo il portafoglio come ce l'avevamo ai tempi dei Berlusconi e in più non avremmo più il capro espiatorio al quale imputare tutte le nostre disgrazie tutte le nostre disgrazie e per cui io sono convinto che Beppe Grillo e Antonio Di Pietro nel segreto dell'urna votano per Silvio Berlusconi pure loro perché Silvio Berlusconi tiene in vita sia Beppe Grillo che Antonio Di Pietro capito? va bene va bene cari amici la rivoluzione la grande rivoluzione oggi consiste nel passare dalla non voglia di lavorare alla voglia di lavorare grazie cari amici a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni